Pronto! Ritorna Storie della TV Sinterico perché già mi girano Sei nuovi appuntamenti dedicati alla televisione italiana L'invalesimazione dello spettatore è totale E ai protagonisti che l'hanno resa grande Grande qualità, grandi attori La magia del piccolo schermo raccontata da Aldo Grasso Un frammento di eternità che si serisce nella nostra vita quotidiana Brillante, comico e drammatico Le occasioni si prendono a volo Storie della TV Da mercoledì alle 21.10 in Prima Visione su Rai Storia